Il sindaco Paolo Dosi ha confermato l'assessore Paola Beltrani, dopo che il segretario provinciale dell'Italia dei Valori Sabrina Freda aveva detto che il partito non si sente più rappresentato dall'ormai ex esponente di Pietrista, passata al movimento di Massimo Donadi. Io tenderei sempre a distinguere quelli che sono i ruoli amministrativi da quelli politici. E come responsabile dell'amministrazione non posso che confermare la fiducia in un assessore che ha dimostrato in questi mesi di essere presente, attenta e, come tutti noi, in corso anche a lavorare sempre meglio per il bene della città. Pur comprendendo le pur legittime aspettative e attese di una forza politica che originariamente ha sostenuto la coalizione e si è posta in modo molto propositivo anche nel corso della campagna elettorale. Ho ritenuto che però questi cambiamenti politici, che in questo momento oltretutto sono fin troppo frequenti e dal mio punto di vista poco decifrabili, non possono condizionare la vita di un'amministrazione. A questo punto pare scontato il fatto che l'Italia dei Valori tolga il sostegno alla Giunta, uscendo dalla maggioranza di centro-sinistra a Palazzo Mercanti, un rischio che Paolo Dosi ha messo in conto. Me ne rendo conto, però credo che questo potrebbe anche costituire un precedente che poi potrebbe condizionarmi anche per eventuali modifiche politiche future. Se però io dovessi dar vita ad un precedente, credo che indebolerei la mia posizione e la posizione amministrativa della mia Giunta di fronte a possibili richieste che altre forze politiche potrebbero fare.